Sicuramente, componenti, però per chiudere questo e magari se vorrai farlo sentire un piccolo pezzo vorrei ringraziare il signore anziano che vende i fiori qui vicino che mi ha mandato da tutt'altra se ci stai ascoltando, facciamo pubblicità i fiori, erano bellissimi e anche convenimenti però l'indicazione è stradale, non è anziano Bene, allora attenzione perché adesso ascoltiamo Enrico Cervellera appunto La lezione del brigante Mi ha un mazio di prezzo di anni ventiquattro, mi sono messagna dall'età di otto Qualcuno mi voglia spiegare se la fame oggi è un delitto, adesso per adesso mi ha detto che oggi sono reglietto E non è ben chiaro a quale stato oggi risponda, forse è borbone, forse è se vuoi e non sono qui Perché l'ervenia, chiedo solo notizie di mia sorella Maria Eugenia Ditele che sono qui e non serbi mai rancore, ditele che sono morto per l'italico onore Di prezzo pagato per quello che ho detto, è stato troppo per quello che ho fatto Analfabeta di mano contadina, mi hanno chiamato brigante dalla sera alla mattina Con altri setterravamo per borghi, da ruolare disperanti come noi Renitenti anche gente comune, alla macchia solo per necessità Quale sono le terre promesse, le facce rimango le stesse, le gabbelle si chiamano tasse di opinioni diverse So che nelle fosse Le storie metrata per mollare tutto, credevo avrebbe sordito il soffetto La mia via marcia è accesa dall'aceto, spero avrebbe gelato il mio intimo segreto Signor sindaco, sono pure sposato, con l'orizzonte volevo tornare Per ricucire frammenti di vita, senza di dove per questa unità Unità che le amava, tutto cambia nome, e le obbligate un tratto diventa padrone I reni si svegli a guardare fino al fondo, altro non sono che là di fondo La chiesa, già tradizionata per bene, ma d'accordo con chi non far votare gli ultimi Io mi ricchia poco da sempre, ma sempre aspetta che tocchi alla gente Dura di più di quanto era stato promesso, prima che il meridione fosse ammesso Prima che scoppiasse la guerra chiamata civile, prima che io morissi in un bagno penale Non chiamatela, delinquenza comune, che un popolo si ribella Non penso coso, ma è sempre vittima, quell'umana vana gloria Cioè invece coppettinati, dritta di storia Dove sono le serre promesse, di le facce rimangono le stesse Le capelle si chiamano tasse di opinioni diverse, compie delle forze Ibrigata una sola certezza, della vita di ciò che ne resta E allora tu te devi cambiare, tu te devi cambiare Dove sono le serre promesse, di le facce rimangono le stesse Le capelle si chiamano tasse di opinioni diverse, compie delle forze Ibrigata una sola certezza, della vita di ciò che ne resta E allora tu devi cambiare Per restare ugual Vorremmo poter avere lo studio pieno di persone E aggiuntarti un applauso perché te lo meriti veramente La parliamo di un ragazzo, di un nostro conterraneo, di un nostro concittadino Vive a Mesagne, che è giovanissimo Che qualche anno fa, esattamente nel 2004 Ebbe una straordinaria idea Accomunato da una grandissima passione Che è quella della musica popolare, della musica folk In modo particolare Ha realizzato un progetto dal titolo La Resistenza Cos'era questo progetto? Era una band che aveva proprio lo scopo di comporre Di realizzare alcuni brani che avessero una certa aderenza con la nostra realtà Bene, questo ragazzo che è maestro di musica Diplomatosi, laureatosi nel conservatorio, eccetera Dopo tanti tanti anni di sacrifici Abbiamo il piacere di ospitarlo questa mattina Lui si chiama Enrico Cervellera Che è componente della band La Resistenza Entriamo nel vivo di questo tuo grande progetto dal titolo La Resistenza Il titolo già di per sé molto emblematico, molto significativo Che cosa racchiude questo titolo? Allora, non sappiamo se ti verrà grande Grazie per i complimenti e per aver raccontato un pochino La nostra piccola attività musicale Siamo tornati ieri mattina dall'Albania E come ti accennavo in un live di settembre Che allora tenni da solo Stavo cercando di chiudere la nuova formazione E c'è stato il felice ingresso di un chitarrista Un ragazzo molto giovane del mio paese Quindi una... Metà, metà Sì, un diciannovenne Che si chiama Federico Esperpi Che si sta dimostrando davvero un valido supporto In questa attività Perché con grande umiltà si cimenta Le canzoni gli piacciono davvero Ed è molto bello ed importante lavorare con un musicista Che crede e apprezza sinceramente le canzoni che sta suonando Perché l'espressione diventa tutta differente Nel contempo ho assaggiato anche le qualità di altri grandissimi musicisti Con i quali ci riproponiamo di collaborare Vista la grande amicizia e la stima che abbiamo E siamo stati, come tu annunciavi Ospiti, onorati di suonare in un festival molto importante in Albania Dopo ciò abbiamo fatto sentire due brani Uno che tu conosci La versione del Brigante E l'altro molto bella Ti sfido a indovinare quale fosse Essendo andati in Albania E dopo ti racconto un episodio La ballata dello clandestino Resistenti carissimi Caparezza suona per noi In macchina E si va a Galatina Per una piccola intervista Insomma, vuole fare una sorpresa Il mio amico Mimmo Astora Resistere ragazzi IRSDS Allora ragazzi Siamo arrivati a Galatina Siamo arrivati a Galatina